Io sto godendo, ma sicuramente gli interisti hanno firmato una condanna per Lilian Tiorami, per le sue dichiarazioni. Ben ritrovato amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Andiamo ad analizzare le parole di Lilian Tiorami, il papà del nostro Kefren, che ha detto una frase spettacolare sulla Juve, ma allo stesso tempo gli interisti lo odieranno, ma io godo lo stesso. Adesso parleremo pure di calciomercato, ve lo dico subito, Kostic ragazzi, Kostic, un altro giocatore che può portare soldi alla Juventus. Prima che andiamo a approfondire, come sempre, iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, sono sempre qui per difenderla Juventus e per godere insieme a voi. E tante belle emozioni, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video. E siamo sempre live, lei se non c'è teme, madame, messia e signore e signori, miei signori, quelli veri e quelli gobi, vi agonieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Efri Antio Ram ha detto, mio papà mi ha detto che la Juventus è la squadra più forte, più gloriosa d'Italia. Ora, apri di cielo, gli interisti lo odieranno, anche perché Lilian Antio Ram ha messo la maglia dell'Inter per festeggiare lo scudetto che ha vinto il figlio, ma già Lilian Antio Ram ha messo le cose a posto quando aveva uno schiaffo al fratello non buono che cantava chi non salta bianco nero è. Ovvio che Antio Ram mette la maglia dell'Inter e Lilian perché il figlio ha giocato lì, il figlio ha vinto, è giusto che vai a festeggiare. Ma ciò non toglie che Lilian Antio Ram è un vero gobbo. Ora un altro suo figlio, come dico, non è il figlio scemo, tra virgolette, ridendo e scherzando, ragazzi. Dai, capiamoci, Efri Antio Ram è il figlio buono, il figlio che ha scelto la Juventus. E tra i tanti e vari ricordi ricorda il signor nostro Kefren che ha dei ricordi quando suo papà giocava al Delle Alpe, si ricorda del miglior giocatore in quei tempi che era Ebrahimo, ci ha ricordato quando andavo a scuola insieme al fratello qui a Torino e tutto. Però la frase più bella che ho sentito è quella che gli ha detto il papà, la Juve la squadra più gloriosa d'Italia. E a questo punto qua, ora, condanneranno Lilian Antio Ram, addirittura questi qua, talmente che se lo so che loro sono pazzi gli interisti, penseranno pure di mandare via Marcus e Teoram perché loro sono veramente capaci di portare questo odio dopo le dichiarazioni di Teoram. Ma Teoram ha detto la verità, la Juventus è la squadra più gloriosa d'Italia e loro sono la squadra più gloriosa nei tribunali per vincere gli scudetti di cartone. Questo qua lo sto aggiungendo io, però ragazzi, è la verità. Ci fa piacere giustamente che Lilian Teoram ha messo le cose a posto spiegando a suo figlio, il figlio buono, com'è la vera storia del calcio italiano. La Juventus è la storia del calcio italiano, è la squadra più gloriosa e più forte d'Italia. E questo, Lilian Teoram, ti ringraziamo. Ora sicuramente poi avremo modo di commentare più la reazione dei tifosi interisti dopo che Lilian Teoram li ha massacrati così, anche perché voglio ricordare che un altro figlio di Teoram gioca al leader ed è Marcos. Andiamo a chiudere le parole di Teoram, andiamo a parlare ora di calcio mercato. Filippi Kostic, la Juve lo ha messo in uscita, non fa parte assolutamente dei progetti e dei piani di Tiago Motta, lo sta cercando l'Atletico Madrid. Ma occhio che nelle ultime ore si è avvicinato pure il Napoli, il Napoli vicino a Filippi Kostic. La trattativa diciamo che ancora non è iniziata, sono solo dei sondaggi, ma la Juventus inizia già a gustarsi al 10 milioni di euro per la cessione di Filippi Kostic. C'è un giocatore che è arrivato alla Juventus dopo il primo anno e ha fatto vedere qualcosa, il giocatore che poi si spende, molti hanno addossato la colpa dal Lega perché non gli ha fatto fare il proprio ruolo. Kostic è un esterno alto, l'ha fatto giocare come terzino, ma oggi non rientra nei piani di Tiago Motta, anche perché Kostic ha una certa età, non è più un giovingello. E la Juve ha detto, guarda, iniziamo a prepararci per fare cassa e Kostic può portare 10 milioni freschi freschi da poter investire nel nuovo calcio mercato della Juventus e come dire nella nuova era del nostro Tiago Motta. Che bello dire, del nostro Tiago Motta, bellissimo. E ora, mentre la Juventus si sta già pensando, a parte gli acquisti che sono sempre i suoi obiettivi, quelli ormai fissi come Copmenersi, San Giotto di Boma, ma ragazzi, ricordiamoci che la Juve sta lavorando anche in maniera assidua sulle cessioni, sulle uscite, perché le uscite, ripeto, portano i soldi. La Juve quest'anno il calcio mercato l'ha praticamente basato sul rifinanziare acquisti perché vendi, se no, oggi la Juve si sa come molte squadre italiane, non è che possono uscire tanti soldi e fare un mercato, visti i problemi economici che attraversano il calcio, ma dobbiamo dire che la Juve ha i propri debiti, li sa gestire bene dietro a una società che non rischia mai di fallire, che non rischia assolutamente il pignoramento, e la Juve ha una bella miniera che si chiama Nexigendi, può totalizzare sicuramente degli acquisti mirati senza uscire un soldo dalle casse dell'Exor. Questa qua è una bella cosa. E sempre vi dico e vi ripeto, qualcuno oggi non gli va giù che Elkan è così freddo con la nostra Juventus, che Elkan ha un carattere un po' diciamo schivo, è il suo carattere, ma statene sicuri che lui, la Juve, la tiene al posto giusto dove nessuno la può toccare. Fidatevi che la Juve sta tornando. Fino alla fine, forza, Juventus, io me ne voglio, ossa benedica a tutti picciotti, ciao!